Salve ragazzi, stiamo percorrendo il filone dei distributori di carburanti qui davanti c'è un distributore che si chiama Bonaria Energia Bonaria per l'appunto è un supermercato molto forte nella vendita di carni, insaccati eccetera prevalentemente provenienti dall'est devo dire hanno il loro distributore di carburanti come vedete che ha anche l'autolavaggio self service un mini market all'interno e il gasolio qui lo fanno a 1 euro 147 la benzina senza piombo 1 euro 172 e 0 350 sinceramente che cos'è il gas? non lo so, vi direi una sciocchezza comunque vedete la differenza è enorme se i prezzi possono essere simili tra un distributore e l'altro qua in Spagna la differenza con l'Italia è un abisso, un abisso indicibile e chiaramente uno quando arriva in Italia va in sciocca anafilattico che ve lo dico a fare? pensateci voi, cercate di far abbassare i prezzi in Italia perché io quando vengo devo trovare dei prezzi più accessibili ok? con questo è tutto, vi saluto e alla prossima state in campana, ciao!